La vita di San Paolo è stata predicazione, persecuzioni e preghiera, una vita sempre in moto per annunciare Cristo, tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni del Signore. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a Casa Santa Marta, nella quale ha preso spunto dal brano degli Atti degli Apostoli, che narra dell'arresto di Paolo e delle accuse di farisei e sadducei, per approfondire tre dimensioni della vita dell'Apostolo delle Genti. Che annuncia Cristo con passione, non seduto dietro una scrivania, ma sempre avanti. E questo gli porta a difficoltà, a persecuzioni. Tutti i capi dei giudei lo accusano, farisei e sadducei. Paolo, con l'aiuto dello Spirito, riesce a dividerli, stimolando una disputa sulla risurrezione. Custodi della legge, della dottrina e della fede, ha commentato il Pontefice, che avevano perso, trasformandoli in ideologia. Poi la notte il Signore si avvicina a Paolo e nell'intimità della preghiera gli dice «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Gli veniva accanto tante volte. Una volta, lui dice che è portato quasi al settimo cielo nella preghiera. E non sapeva come dire le cose belle che aveva sentito lì. Ma questo lottatore, questo annunciatore senza fine di orizzonte, sempre di più, aveva quella dimensione mistica dell'incontro con Gesù. La forza di Paolo era questo incontro col Signore che faceva nella preghiera, come è stato il primo incontro sul cammino a Damasco, quando andava a perseguitare i cristiani. Paolo è l'uomo che ha incontrato il Signore e non si dimentica di quello. E si lascia incontrare dal Signore e cerca il Signore per incontrarlo. Uomo di preghiera.